La forma tra virgolette dopo delle gare importanti è sempre difficile, ormai ho raggiunto uno standard da cui faccio fatica a scendere, però dopo un anno fermo non posso pretendere altro, devo solo lavorare per chiudere l'ultimo 50 come si deve e basta. Grazie. Ciao. Certo stile libero con Federica Pellegrini ancora per l'Agnane in corsia 6, dall'alto al basso Trentin, Curandai, Ferraioli, Florio, Pellegrini a punto, Orsi, Galizzi e Sciarrini. Galizzi proprio che tenta di sfruttare la sua velocità per cogliere di sorpresa la Pellegrini, Pellegrini che la vedrà poi nella vasca di ritorno. Federica sempre un po' in difficoltà nella prima parte dei cento, più volte ha sottolineato come difetti in velocità pure, in esplosività, per cui una gara a inseguire anche in contesto italiano. Ma è la Ferraioli che ci prova, brava, Ferraioli questa mattina vinto i 50, insomma è l'atleta di riferimento sulla velocità, Pellegrini a parte in Italia nell'ultimo periodo. Pellegrini quinta nella finale dei cento stile libero del Sette Colli, una finale vinta da una straordinaria Francesca Halzal, qui va a ingaggiare il testa a testa con Erika Ferraioli, Pellegrini che nella finale fa valere la sua qualità 55-81, 56-02 per Erika Ferraioli, già da Galizzi 56-75, dunque Aniene, Forum e Larus per il podio di questa gara.